Raccolta differenziata, una sana rivoluzione che parte dalle parrocchie, trovando spazio nel cortile della chiesa di San Luca. Sono gli opifici di pace di Luigi Gattuso e Andrea Polizzi, un progetto diventato realtà e che permetterà agli abitanti della zona, e non solo, di poter differenziare i loro rifiuti. Il primo centro di raccolta presentato e inaugurato nei locali della parrocchia, durante un incontro al quale hanno preso parte numerosi professionisti del settore, e non solo. La raccolta differenziata interessa la società civile, che è bene che partecipi attivamente. Le utenze, opportunamente registrate sul sito www.pificidipace.it, potranno conferire il loro materiale, la raccolta differenziata, presso la parrocchia San Luca, che è il primo centro di sperimentazione del progetto. Potranno conferire carta, cartone, plastica, alluminio e vetro, e dopodiché il personale provvederà alla loro selezione. Avendo organizzato questo progetto in parrocchia, riteniamo di aver dato ai cittadini la vasta possibilità di poter realizzare la raccolta differenziata. Nello stesso tempo, quello di poter partecipare in maniera più operativa anche a tutte le altre problematiche sociali. Non ci dimentichiamo che questo progetto dà la possibilità alle parrocchie di avere un contributo da parte del Comune, pari al 15% delle economie realizzate per il minore conferimento in discarica. E dà ai parrocchi la possibilità di aiutare effettivamente tutte le situazioni di disagio sociale che ci possono essere. Non ultimo, anche la possibilità di intervenire per la manutenzione dei propri stabili, che spesso contengono, specialmente le chiese antiche, un notevole patrimonio culturale. Un invito, quello che il parroco della chiesa a San Luca, Alfonso Cammarata, ha accolto, ricordando il messaggio di Papa Bergoglio nell'enciclica Laudato Si, prendendosi cura della terra come figli grati ed educati. Si tratta nel mettere in pratica quella che è la dottrina sociale della chiesa, che il nostro Papa Francesco, ecco ultimamente con la sua engiclica Laudato Si, ha ingendivato tutti quanti, non solo i credenti cristiani, ma tutti gli uomini di buona volontà a prendersi cura dei madre terra.